benvenuti oggi leggeremo alcuni passi tratti dal racconto di irene speziale abruzzese ingegnere ambientale si accosta alla scrittura grazie al contatto con i bambini ai quali insegna a realizzare libri pop up e proprio dalla relazione con i bambini che scaturisce questo racconto che ci mostrerà che la meraviglia dei piccoli spesso non viene accolta ed ascoltata dagli adulti spesso distratti dal vortice dell'abitudine papà vorresti per caso aspetta un attimo dopo qualche minuto arrivò dimmi che c'è volevo chiederti se mi aiuti a costruire questa città con i lego ora sono stanco ma tu sei grande sai farlo da solo dai disse al bambino che corrugò la fronte anzi facciamo così quando la finisci chiamami che facciamo una foto e la mandiamo a nonna su whatsapp va bene suo figlio ci pensò un attimo la nonna le diceva sempre da grande costruirò le città e saranno bellissime si rasserenò e si mise all'opera con grande concentrazione il tempo volava ale è ora di cena vieni a tavola si papà ma ho finito vieni a fare le foto per nonna ale si raffredda la mamma ha cucinato per noi la foto la facciamo dopo il bambino sospirò davanti alla sua città la salutò e andò a lavarsi le mani ale stai mangiando troppo in fretta vuoi strozzarti no papà è che voglio fare la foto per la nonna ale c'è tempo mangia come si deve va bene papà è la mia suoneria mi stanno chiamando vado a prendere il cellulare si alzò prese il telefono e rispose ah ciao dimmi tutto no no ho appena fatto sì aspetta che mi sposto qui c'è la tv accesa ale intanto aveva finito di cenare e aspettava che il padre si liberasse per poter fare la foto per la nonna era il momento dei cartoni animati quelli che guardava prima di infilarsi il pigiama e andare a dormire guardava lo schermo ma le sue orecchie erano tese concentrate sulla voce di suo padre non aveva ancora riattaccato poi finalmente ecco i saluti finali di quella interminabile telefonata papà lo chiamò ma in realtà era già sceso dalla poltrona per raggiungerlo facciamo la foto per la nonna a la foto è ma ale adesso è tardi meglio non disturbare la nonna la facciamo domani ok